Bella vecchi trafani, siamo i grazie, siamo tornati qui con un nuovo video, sempre sulle app Oggi siamo con un'app che abbiamo già annunciato in precedenza, che avremmo fatto E siamo con l'app March of Empires Scusa ma si dice March of Empires March of Empires C'è questa cosa che rimanda un po' a Age of Empires Però infatti se sei davanti alla saga è molto simile a Age of Empires Tanto che è trasportato su iPhone, è il classico gioco di strategia diciamo Però rispetto a tutti gli altri, ed è per questo che comunque mi ha spinto a scaricarlo e a giocarci Rispetto a tutti gli altri è più dettagliato Cioè adesso faccio vedere tipo che c'hai tutti i dettagli possibili e immaginabili in un gioco Una cifra di roba E' una cifra di roba Intanto qua tipo entri e c'hai i regali che ogni tot te fanno 5.000 unità di ferro Intanto proprio dalle risorse vediamo che c'è un sacco di roba Ah c'è sta il pane, c'è il cibo vabbè E poi c'è la legna, la pietra, il ferro e l'argento Cioè ognuno serve per una determinata cosa Invece tipo tutti gli altri giochi a cui ho giocato simili non avevano così tante risorse Un'altra cosa figa è che si possono creare vabbè le alleanze Io infatti ho creato la nostra che si chiama Old Trapani perché Vecchi Trapani non c'entrava Era Vecchi Trapan usciva E infatti l'ho chiamata Old Trapani perché voglio che voi se vi scaricate questo gioco Entrate nella mia alleanza così possiamo giocare anche insieme E la cosa figa è che con l'alleanza noi possiamo andare a conquistare qui sulla mappa Intanto faccio vedere la mappa che cos'è Questi sono tutti i giocatori Minchia Cioè sono tutti altri giocatori E poi se io clicco qui ci sono le regioni Cioè tutta questa cosa che avete visto immensa è in piccolo qua E queste sono tutte le regioni Quindi è una cosa incredibile Cioè enorme Questi qua sono tutti i clan che hanno tipo conquistato le regioni Vedi tutte le alleanze che hanno conquistato le regioni E se noi facciamo una bella alleanza tutti insieme Magari se siete tanti io me ne apro una Lui se ne apre una sul suo telefono E facciamo due alleanze unite E conquistiamo tutto quanto Conquistiamo il mondo Conquistiamo il mondo proprio E ci conquistiamo tutto quanto praticamente Questi qua vedi come si chiamano KSC Li mandiamo a casa Cioè li conquistiamo Proprio che c'è tra l'altro c'è un simbolo dei fanatic però vabbè Anche perché noi abbiamo una potenzialità Tutti insieme Siamo talmente tanti Che gli possiamo far male Gli mandiamo in testa Cioè i granas diventano i padroni Del 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 March of Empires Se voi giocate March of Empires Se entrate appunto nella nostra alleanza E Qua intanto ho fatto delle missioni Le avventure Ci sono le avventure da fare Infatti avete tipo 100 punti energia Che se Si ricaricano ogni ora Quindi praticamente quasi sempre Perché una cosa dura tipo 4 minuti 3 minuti E questa 36 minuti la faccio Perché mi da 74.000 unità di pietra La faccio subito Avete anche il personaggio Vi faccio vedere Questo è il mio personaggio E Il personaggio C'ha pure l'equipaggiamento Cioè In quale gioco c'è sta pure l'equipaggiamento Infatti io ho tipo l'elmo Che ha il limite di legna Poi ogni oggetto Ti dà una cosa diversa Infatti c'ho tre elmi diversi Però io metto questo qua Perché mi dà più bonus Mi dà sia legna che pietre Poi vabbè c'ho le spade C'ho anche la balestra Però preferisco le spade Perché mi danno più bonus Rispetto alla balestra Poi potete creare Voi Vi potete craftare proprio Gli oggetti Quindi che ne so Se voi trovate Durante le spedizioni Che adesso Anzi Faccio subito una spedizione Così vi faccio vedere Intanto che parliamo Dove siamo noi Noi siamo qua Ok eccoci qua Calcolate Questo qui può diventare Tutto nostro Se fanno un'alleanza E noi Adesso vi faccio Tipo una spedizione qui Per prendere un po' di cibo E speriamo E da queste spedizioni Voi trovate anche gli oggetti Questi oggetti Che vi faccio vedere Che ho già fatto vedere adesso E potete Se trovate degli oggetti Buoni Diciamo Qua Li craftate proprio Infatti vedi Se io adesso voglio farmi Questi sono gli oggetti Comune Non comune Raro Epico Leggendario Quelli leggendari Ovviamente per farli Se io ci clicco Ci vogliono quelli Epici Per far quello epico Ovviamente ci vogliono Quelli rari Quindi è una cosa Che dovete fare col tempo Infatti io Se voglio fare un non comune Devo trovare qualche oggetto comune E qualche oggetto non comune E questi qua Poi vi hanno craftati Oppure se trovano direttamente Alle spedizioni O in segheria O in cava di pietra Quindi io devo fare Ste spedizioni Per trovarsi oggetti E li crafto E poi piano piano Quindi mi faccio tutto Equipaggiamento leggendario Che è una figata Cioè Guarda quanto è bella Il volto del re furioso Cioè Troppo figo Sbamma Me lo voglio fare Calcola È il primo che devo provare Devo provare a fare Questo è tutto il mio villaggio Cioè il mio Il mio feudo Il mio regno E c'ho il castello A livello 8 Che per far stare il castello Ce ne vuole Diciamo abbastanza Quindi comunque Sono andato abbastanza avanti Qui c'ho tutte le risorse Tipo segheria Pietra Ferro Tutto quanto Quindi vedete che è anche bella grossa Come mappa Questo qui ancora non l'ho sbloccato Perché si sblocca al Livello 15 Castello a livello 15 Quindi a voglia Prima lo sbloccherò ancora E poi quindi voi potete ampliare E qua Vedete che potete fare altre cose Infatti io qua c'ho tutto terreno fertile Che devo costruire qualcosa Ma ovviamente ci vuole Ci vuole il tempo Poi per esempio Io qua sull'accademia Sto facendo delle ricerche C'è stata la prima La seconda La terza epoca Man mano che va avanti il castello O gli altri edifici Sbloccate la seconda epoca Infatti per sbloccare la seconda epoca Devo arrivare all'accademia A livello 10 Prima però intanto Fa niente Perché mi sto A maxare tutte queste ricerche Infatti adesso Mi maxo questa Mi da velocità di costruzione Più 10% E la faccio un tanto 5 minuti Quindi me lo batti di poco Non c'ho niente Posso preparare le trappole Cioè tipo Produco le murature E faccio le trappole Posso addestrare l'esercito Che adesso sta Ancora in addestramento L'ho messa a destra prima Eccolo qua Potete addestrare Spadaccini Lanceri Guardate quanti ce ne stanno Poi c'è sta l'unità a cavallo Tutte queste cose qua Intanto che aspettiamo Che le truppe Finiscano la guerra E ci prendano E forse ci prendano Un cavolo di oggetto Buono C'è stato tipo un mini gioco dentro Che è la lotteria C'ha vedi Tipo un tiro al giorno Gratis Io sono fortunato Come si fa? Devi fare gioca E lanci i dati Se tu fai tipo Di numeri superiori Al questi qua Cioè prendi Vedi Ogni casella Se fai dagli uno Ai 5 punti Prendi questi Se fai Capito? Lasci 30 Guarda Che devo fare? Tira Così? Così? Sì Bello Grandissimo Quindi abbiamo preso Uno di questi giochi Come fa uscire 30 Più che altro Scusa? Non lo so Volo più un altro tiro No eh No ti abbiamo preso Il ferro Il ferro Vai 5 minuti Dagli perché il ferro Era l'unica cosa Che non ci serviva Perché guarda Quanto Però vabbè Ok finita la guerra Vediamo il resoconto Abbiamo preso Tutti i 10.000 Le risorse Però non abbiamo trovato Nessun oggetto Purtroppo Sarà per un'altra volta Sfigato E vabbè Abbiamo visto anche Com'è l'attacco Non ho attaccato direttamente Un castello di un altro Perché Se no veramente Era troppo lungo Non riuscivo a farvelo vedere Nel video Però calcolate che Comunque l'attacco È simile a quello Che vi ho fatto vedere io Adesso era un saccheggio A una Tipo una A una fattoria Normalissimo Comunque ragazzi Come vi ho detto Se vi è piaciuto questo gioco Lasciamo 5.000 like E magari facciamo una serie Dove appunto Giochiamo tutti insieme E cerchiamo di conquistare il mondo E niente Spero che vi sia piaciuto questo video Noi ci becchiamo come sempre Al prossimo Bella Ciao